cari amiche ed amici e qui ancora una volta il vostro santin chan beh in questi giorni che ho fatto dopo aver fatto il mio ultimo video per youtube e stare progettando di caricare video per google plus e facebook che da molto tempo non carico altro che attualizzazioni dei miei video di youtube in google plus facebook vk ho visto molti video anche ieri sera fatto tali ho fatto l'una alle due perché vedo dei dei comparativi di cellulari e dei tutorial vi leggo anche in video non ho potuto comprare un trepiede perché il fablet o cellulare intelligente smartphone con cui mi sto filmando il moto it seconda generazione pesa un fagotto e non è lo stesso che firmarsi con il samsung galaxy young 53 60 samsung o con il nokia asia 302 pensano di meno questo cellulare pensa fantasticamente di più e poi si deve tenere orizzontale quindi dicevo visto molti tutorial per perfezionare i miei ma io ho già fatto dei tutorial sui cellulari se voi vorreste guardarvi dei miei tutorial sui cellulari ho fatto anche un comparativo molto la motorola molto in seconda generazione 2014 che con quello che mi filmo telecamera davanti la camera davanti di 2 megapixel in full hd e un altro motorola che è stato classico del 2003 il motorola c 350 guardatevi quel video comparativo che è molto interessante comunque io ho fatto dei tutorial sui cellulari ma mi manca di fare della ericsson il ti 19 credo che sia otti 19 e poi basta qualche comparativo in più tra i cellulari che ho peccato che mia madre ha regalato un cellulare che gli avevo regalato io a lei che era il samsung 21 21 che era veramente bello non proprio come il motorista seconda generazione ma bellino stanno succedendo delle cose pazzesche ed io quindi mi sto prestando a fare dei nuovi video poi però volevo mettere da parte l'attualità che ho già girato due o tre video sulla situazione degli attentati in francia e certo poi c'è stato anche in belgio un po di panico ma per fortuna nulla e volevo fare dei video su letture su libri se voi avete qualche titolo da consigliarmi ad ogni buon conto a più di una settimana che ho girato l'ultimo video volevo salutarvi perché non so quando farò il prossimo video quindi grazie a tutte e tutti per seguirmi uno degli ultimi video l'hanno visto quasi diecimila volte in una settimana grossomodo in due beh è stato mio nuovo record perché il video che più mi hanno visto l'hanno visto circa 40 mila volte in un anno o due invece quest'altro l'hanno visto in dieci giorni dici mila volte mi sta a fare male braccio allora vi lascio il vostro sant'inchan grazie di seguirmi poi sono quattro minuti e mezzo di video tarderò ad evitarlo in full hd ciao girerò nuovi video per il momento mi prendo un po di pausa oggi che mercoledì grazie a tutti